Shando, prima volta a Bari? No, non è la prima volta a Bari, no no no, ma come è la prima volta a Bari? Amo Bari, amo la Puglia, no no, non è la prima volta. Hai dei progetti qui in Italia? Sì, c'è un progetto molto importante per la televisione nazionale in ottobre così e con una persona molto famosa qui in Italia. Shando, hai contatti con la Grecia? No, per il momento no, lei è una donna fantastica ma non è realmente il contatto adesso, non è. Stai con qualcuno? Non posso parlare di questo, caro, non si può parlare di questo, no. Shando, che progetti hai per questa estate? Per l'estate andavo al mare, palestra, palestra, palestra e lavoro al primo momento e basta, così. Sì, sono singolo, adesso...